Ecco un'emozione fortissima che vi comunico che il povero ragazzo, il corpo del povero Fabio Perini è stato ritrovato pochi minuti fa alle ore 9 a circa 5 miglia dalla costa dal moto peschericcio Aurora che ha partecipato insieme con altri 20 pescherecci, tra pescherecci chioggiotti ma anche alcuni pescherecci di pescatori della Pila che hanno voluto dare la loro solidarietà e sono partiti questa mattina alle 6, erano appunto lì, si sono andati anche con l'autorizzazione delle autorità marittime e hanno iniziato questa battuta di ricerca del corpo e quindi sono riusciti, grazie ai pescatori, grazie ai nostri pescatori ad evitare questa tragedia di come era già capitata quel povero Fabio Andri di non trovare il corpo, quindi almeno questa cosa è una cosa bellissima, nella disgrazia è una cosa bellissima, la grande solidarietà dei nostri pescatori chioggiotti, insomma non ho altre parole da dirvi.